Oggi è iniziato ufficialmente il mese di settembre, mese importantissimo per la Major League Baseball in quanto entriamo ufficialmente nell'ultimo mese di stagione regolare dove i giochi definitivi si compiono e si creano in attesa dei playoff di ottobre. Ultimo appuntamento dunque con il recap della regular season per quanto riguarda il mio canale prima di trovarci tutti insieme il mese prossimo per parlare di playoff. Lì la programmazione del mio canale cambierà con un video per ogni fine turno oltre ovviamente alla posizione dei playoff. A proposito di questo, posizione dei playoff che sarà peraltro fatta anche in diretta Instagram sulla pagina di MLB Italia insieme al buon Andrew, admin di MLB Italia, l'admin di Media Battuta, un'altra pagina di Instagram di Baseball e il buon Puma Z per creare il poker di tifosi italiani che parlano di questo meraviglioso sport ovvero il Baseball MLB. Tornando invece al presente, stagione regolare che appunto entra nelle ultime partite di stagione dove qualche gioco è già stato fatto, vedi per esempio per alcune squadre che sono effettivamente andate a sud vendendo e spandendo a destra e a manca, altre squadre invece si giocano dei posti importantissimi per quanto riguarda l'accesso alla postseason che ricordiamo è allargata a 12 squadre. Come al solito, classifiche alla mano, andiamo ad analizzare squadra per squadra quello che sta succedendo con del focus su degli episodi parecchio importanti. Come al solito partiamo dall'American League East dove i Baltimore Orioles si confermano in testa alla classifica, 83 vittorie e 50 sconfitte, 7 vite nelle ultime 10 ma l'ultima partita persa. Al netto che comunque anche per via della situazione che vedremo nella situazione wildcard in American League, Baltimore ha una posizione di estremo vantaggio, anche quello arrivasse in seconda posizione. È una bellissima lotta adesso con Tampa Bay e soltanto lei. I Rays infatti sono secondi a una partita e mezzo dai Baltimore Orioles ma comunque anche loro hanno una posizione di comfort per quanto riguarda la wildcard. Tampa Bay pian piano sta tornando e sta puntando a quel primo posto di division che evidentemente auspica, 4 vinte di fila, 8 vite nelle ultime 10, insomma la squadra di Kevin Cash sta tornando un po' quella che era all'inizio della stagione, ovvero una macchina da punti e da valide. Evidentemente adesso in questo mese di agosto appena finito l'American League East ha delineato veramente i valori in campo con Tampa Bay in testa e non è una sorpresa, Baltimore invece è una grandiosa sorpresa soprattutto a questi livelli. Ce l'aspettavamo in maniera molto importante quest'anno ma di certo non, almeno io personalmente, nei primissimi posti. Se fino ad agosto l'American League East era un bagno di sangue adesso Toronto, Boston e New York Yankees sono di fatto staccati after the music, quantomeno per la division. Poi ovviamente la lotta della wildcard, è un altro discorso. Toronto che ha un ottimo record comunque, 73 vinte, 71 perse, è a 10 partite e mezza dalla prima posizione e ha solo 2 partite e mezza dalla wildcard. I Blue Jays sono evidentemente ancora in lotta per i playoff, c'è ancora un mese intero prima di arrivare ai playoff e il vantaggio evidentemente da gestire non è così ampio evidentemente. Bisognerà vedere poi quante sono le squadre davanti da superare. In quarta posizione abbiamo i Boston Red Sox che sono comunque sopra il 50% ma appunto fuori dai playoff verosimilmente per numero di squadre davanti da battere, 69 vinte, 65 perse per quanto riguarda la formazione di Alex Cora. Ultima squadra sono i New York Yankees che complici gli infortuni soprattutto sul monte di lancio, vedi metà dei partenti previsti e anche dei giocatori di ruolo. Vedi per esempio Aaron Judge che va e viene dalla lista infortuni, hanno un record negativo e verosimilmente quest'anno gli Yankees erano una stagione esattamente come l'altra squadra di New York quindi a sud, unica squadra peraltro che ha il record perdente in questa division cosa che peraltro è un po' strana perché fino al mese scorso nessuna squadra dell'American League East aveva il record negativo. C'è un giocatore da approfondire però in questa division e non è un giocatore dei Baltimore Orioles, non è un giocatore dei Tampa Bay Rays, non è il grande Masataka Yoshida dei Boston Red Sox ma è un rookie. Parliamo dei Toronto Blue Jays e parliamo di David Schneider che a inizio di questo mese ha fatto qualcosa di storico. è un giocatore appena chiamato evidentemente dalla formazione canadese e nelle prime apparizioni imbattute in MLB compie 9 valide e conclude questa serie di 9 valide con due super fuoricampo. Peraltro in uno scontro diretto di division a Fineway Park contro i Boston Red Sox. Questo è il primo fuoricampo che viene sbattuto oltre il Green Monster di Fineway Park per David Schneider che mette in questo caso il punteggio arrotondato sul 6-0 per la gioia anche di Vladimir Guerrero Junior. E non è paradossalmente lui l'uomo da approfondire. Schneider appunto la sbatte fuori senza troppa scioltezza, non contento, sull'11-1 nella parte alta del settimo completa l'opera con la nona valida, con il doppio che porta a casa il punto del 12-1. Schneider ha avuto un grande impatto e se c'è qualche chance per il Toronto Blue Jays sicuramente lo devono anche alle prestazioni di questo ragazzo che comunque dà manforte a una squadra che potenzialmente noi l'aspettiamo da tantissimi anni. Vedi appunto gli innesti nel passato di Vladimir Guerrero e Bobby Shett soprattutto, però appunto con uno Springer discontinuo c'è bisogno di forze fresche e Schneider ha avuto un impatto assolutamente importante. Chi invece ha un impatto non così devastante è l'American League Central, che sappiamo senza dubbio essere la division meno competitiva delle 6 presenti in MLB. Quindi c'è comunque finalmente, mi verrebbe da dire, una squadra sopra il 50%, ma di poco è la squadra dei Twins. Minnesota è prima con 69 vinte e 65 perse, una stagione al momento che su altre division sarebbe considerata disastrosa, invece in questa division non competitiva lo è lo stesso, ma comunque si salvano i playoff in qualche modo. Ecco diciamo che chiunque dovesse uscire come vincitrice di divisione, verosimilmente è una tra Minnesota e Cleveland, Minnesota col vantaggio che ha è molto favorita, appunto non la vedo oltre il primo turno dei playoff. I Twins comunque, l'obiettivo dei playoff potrebbero centrarlo ed è comunque una mezza rinascita dopo un po' le stagioni altalenanti delle volte scorse. In seconda posizione abbiamo i Cleveland Guardians con 64 vinte e 70 perse, stesso record nelle ultime dieci dei Twins, hanno una striscia aperta di due vinte di fila, dovrebbero fare un rush incredibile per quanto riguarda appunto il mese di settembre. Qualche innesto, va detto, l'hanno fatto perché dal mercato dei waivers, quindi dai tagliati, perché c'è anche una seconda festa di mercato in tal senso, è stato preso Lucas Giolito che però non è più il giocatore che regnava ai Chicago White Sox. Cleveland è un po' una mezza delusione, vedremo se riuscirà a salvare la stagione con un mese di settembre a forcing, anche se evidentemente Minnesota ha un discreto vantaggio. A nove partite di distacco ci sono i Detroit Tigers squadra che sappiamo essere giovane e in tanking con il povero Javier Baez che è andato lì, evidentemente per soldi, non una scelta, comunque felicissima dal punto di vista sportivo. Tre vittorie sono nelle ultime dieci, 60 vinte, 74 persi in totale e il Mago probabilmente l'anno prossimo uscirà dal contratto e lo vedremo da un'altra parte, Detroit poi tornerà nei meandri dell'ublio. A sto giro gli va bene però perché semplicemente abbiamo due squadre sotto che sono peggio e sono i Chicago White Sox, una delle grandissime delusioni di questa Lega, ma lo diciamo fin dall'inizio di questa stagione. 53 vinte e 81 perse per la squadra di Chicago che di fatto si è considerata una venditrice, ultimi sono i Kansas City Royals che dovevano essere di 41 vinte e 94 perse. Kansas City peraltro che sarà vittima di un giocatore di cui parleremo tra poco perché adesso ci concentriamo su una divisione assolutamente più interessante, ovvero l'American League West con appunto in prima posizione i miei Seattle Mariners, miei come seconda squadra, sapete che io tifo i New York Mets ma ho una grande simpatia per il Seattle Mariners, soprattutto per un giocatore di cui parleremo più avanti perché quello bravo col 44 è tornato e sembra vagamente ispirato. Seattle ha avuto un mese di agosto clamoroso con delle streak di vittorie infermabili e adesso 8 vinte nelle ultime 10, 76 vinte, 57 perse addirittura in prima posizione. Troviamo la formazione di Seattle che nel mese scorso, nell'ultima review, era terza e adesso si era lotta con Houston e con Texas, è un triello molto interessante che troppo però taglia un po' fuori i Los Angeles Angels che nonostante un shuaiotani in stato di grazia non hanno più nessun supporto. E attenzione perché vi ricordo che l'unicorno è free agent l'anno prossimo e ci sarà la fila per accaparrarsi il giapponese. Tornando però nei dettagli dell'American League West, Seattle appunto è prima, stesso record di fatto degli Houston Astros che stanno arrivando e stanno facendo i soliti Houston Astros, lo vediamo già nelle statistiche di questo periodo, 7 vinte nelle ultime 10, 5 di fila per la formazione di Dusty Baker che appena arriverà al playoff sarà come al solito una brutta bestia. In terza posizione i Texas Rangers che comunque rinforzati anche di Max Scherzer hanno un ottimo record, 75-58 in posizione assicurata in wildcard. I Los Angeles Angels o Vanaheim sono quarti a 12 partite e mezza, oramai purtroppo anche quest'anno gli Angels possiamo chiamare fuori dai playoff e ancora una volta sono una delusione perché Mike Trout e Shaiotani non si possono permettere di non vincere nulla e di andare neanche ai playoff. Ultimi sono gli Oakland Athletes che incredibilmente andranno per vincere 40 partite che vista la situazione che noi tutti sappiamo è già un trionfo così addirittura nel 25 nelle ultime 10, probabilmente uno dei migliori periodi della stagione di questa squadra disgraziata e dissestata che sappiamo che dal 2027 andrà a Las Vegas e che dal 2025 non avrà neanche più lo stato di Oakland e quindi insomma una situazione assolutamente disastrosa. E' un giocatore però di cui dobbiamo assolutamente parlare e turniamo alla squadra che è in prima posizione nell'American League West perché signori, quello bravo col 44 è tornato, Julio Rodriguez è l'uomo guidato dal signore di questo mese di agosto e inizio settembre perché ha fatto una streak divide, punti battuti a casa da far spavento e attenzione perché se i Seattle Mariners sono arrivati in questa situazione è soprattutto merito del numero 44 che qui lo vediamo in uno degli highlight di questa stagione, una partita contro Kansas City che vede Seattle sotto 2 a 4 però Rodriguez si inventa questa roba qui, sbatte fuori questa palla al di là delle recensioni del Kaufman Stadium e fa 5 su 5 nella partita, fuoricampo da 3 punti per il 5 a 4 definitivo e Seattle Mariners poi vinceranno questa partita, questo è l'highlight di Julio Rodriguez, uno degli highlight di questo mese di agosto di J-Road che veramente sta facendo il bello è il cattivo tempo per quanto riguarda questa MLB Julio è tornato e quando torna gira tutta Seattle, attenzione perché abbiamo visto come nella storia le squadre che finiscono forte per quanto riguarda il mese di settembre poi hanno una marcia in più in questi playoff quindi occhio a Seattle oltre a questa clamorosa American League West che evidentemente ancora una volta regala enormi soddisfazioni chi invece non regala enormi soddisfazioni sono i New York Mets, squadra che tifo ovviamente che sono ultimi nella National League East, chi invece le regala sono gli Atlanta Braves che probabilmente insieme ai Los Angeles Dodgers sono la miglior squadra di questa conference, di questa Lega meglio 88 vinte e 45 perse per i Braves che stanno veramente ingranando la quinta e ovviamente puntando a vincere il titolo come nel 2021, 8 vinte nelle ultime 10 per la formazione di Brian Snitker 4 consecutive, 14 partite di vantaggio sui Philadelphia Phillies, veramente un vantaggio abnorme, Dodgers e Braves sicuramente li vedremo ai playoff nella National League le altre ce la lotteranno per il bagno di sangue della qualificazione in wildcard oppure tramite vincitori di Division, insomma è veramente qualcosa di clamoroso quello che sta facendo Atlanta che da due mesi a questa parte ha messo veramente i valori in campo nel posto giusto e allora attenzione agli Atlanta Braves anche quest'anno c'è un giocatore di cui però dobbiamo parlare ma ne parliamo dopo aver analizzato la classifica della Division in seconda posizione dopo gli Atlanta Braves infatti abbiamo i Philadelphia Phillies 74 vittorie, 59 sconfitte, nonostante il grandissimo svantaggio che hanno i Phillies hanno enormi chance di arrivare ai playoff perché il vantaggio della wildcard li premia con 4 partite e mezza di vantaggio sulle ultime qualificate in terza posizione abbiamo i Miami Marlins, 67-20, 67 perse, 500 di percentuale di vittorie, record evidentemente pulito, Miami deve fare un po' come Toronto quindi imbroccare un mese di settembre molto buono per arrivare evidentemente ai playoff che comunque va detto Miami se li meriterebbe anche perché è una squadra giovane che però ha dei giocatori molto interessanti e qualche superstar, Arrice è una di queste, Just Easel è una di queste, Sandy Alcantara non ne parliamo nemmeno insomma Miami si ingrana evidentemente la quinta nel mese di settembre può evidentemente arrivare anche ai playoff, è difficile perché le quali davanti sono tante però mai dire mai, chi invece è sicuramente tagliata fuori dalla lotta playoff sono gli ultimi giocatori della classifica, appunto Washington in quarta posizione 62-20, 73 perse e soprattutto i New York Mets come ho accennato prima che non hanno dato soddisfazioni evidentemente alla mia persona in quanto tifoso 61-20, 73 perse, stagione andata clamorosamente a sud, abbiamo visto già nella trade deadline come i Mets abbiano svenduto chiunque per alleggerire evidentemente il monte stipendi in ottica free agency 2024, però è ovvio che nel presente ci sarà bisogno di far giocare dei giovani, fargli fare esperienza e quindi finire quarti o quinti francamente cambia assolutamente poco chi invece cambia gli equilibri in questa Lega e non solo è Ronald Acuna Junior che esattamente nella notte tra ieri e oggi è entrato nel club dei 30 fuoricampi realizzati e 60 basi rubate e lo fa nella maniera clamorosa contro appunto gli Arizona Diamondbacks o meglio i Los Angeles Dodgers, scusatemi, questa palla viene polverizzata e sbattuta fuori dalle recensioni del Dodger Stadium è un grande slam per Ronald Acuna, trentesimo super pepe in stagione ed è uno dei unici giocatori della storia probabilmente a creare una roba del genere 30 fuoricampi e 60 basi rubate nella stessa stagione non si era praticamente mai visto ma Acuna può questo e altro e questo è appunto il replay del fuoricampo che appunto garantisce l'ingresso in questo prestigioso club dei 30 fuoricampi e 60 basi rubate, qualcosa di allucinante anche Acuna sta tornando e pensare che gli Atlanta Braves hanno vinto il titolo del mondo MLB 2021 senza di lui quindi attenzione in ottica playoff anche appunto con il numero 13 per quanto riguarda gli Atlanta Braves rimaniamo a est per i nostri approfondimenti perché c'è un'altra partita di cui dobbiamo parlare, una partita peraltro di inizio mese appena finita la 3 Deadlands sappiamo che in uno degli scambi evidentemente che ha coinvolto le 30 squadre MLB Michael Lorenzen che era a Detroit è andato a Philadelphia e Michael Lorenzen è protagonista di questa partita contro i Washington Nationals contro di Division che finisce apparentemente in un punteggio normale 7 a 0 per una squadra nettamente più forte rispetto a un'altra ma appunto anche qui bisogna parlare perché i Washington Nationals non realizzano nessun tipo di valida quindi ancora una volta parliamo di No Hit, l'ennesima di questa stagione dopo aver parlato di quella di squadra dei Tigers di luglio e anche di quella di Fremberg Valdez arriva anche la No Hitter di Michael Lorenzen peraltro Michael Lorenzen era all'esordio assoluto in casa al Citizens Band Park di Philadelphia quindi non poteva esserci esordo migliore per la giocatore dei Cincinnati Reds e appunto dei Detroit Tigers questo che vediamo è l'ultimo out della partita parte alta del nono arriva una volata che però viene colta al volo dall'esterno centro dei Philadelphia Phillies ed è ballgame al Citizens Band Park questa è la gioia di JT Realmuto il catcher di Philadelphia e Michael Lorenzen che non poteva sognare un esordio migliore con la nuova maglia i Phillies hanno vinto questa partita con una No Hit del nuovo acquisto un giocatore che può dare manforte se Philadelphia riuscirà a qualificarsi ai playoff ma appunto come detto prima la posizione è di estremo vantaggio c'è un altro giocatore che invece va diciamo approfondito e ricordato perché nella stessa partita c'era un altro esordio assoluto quello di Weston Wilson che pronti via davanti alla famiglia vista inquadrato in precedenza nel primo turno in battuta della carriera sbatte fuori questa palla oltre le recinzioni ed è fuori campo per Weston Wilson la famiglia non ci crede impazzisce 0 a 4 per la partita che poi finirà 7 a 0 complimenti anche di Bryce Harper e Nick Castellano se questa è la incredibilità della famiglia questo è il giro di mazza invece di Weston Wilson e dunque Philadelphia può contare anche sulle posizioni di questo rookie proseguendo invece nella classifica National League Central abbiamo in prima posizione i Milwaukee Brewers 74 vinte e 59 perse prima posizione 8 vinte nelle ultime 10 ma hanno una striscia aperta di due sconfitti di fila questo farà avvicinare invece i secondi classificati che sono i Chicago Cups 71 vinte e 62 perse e due vinte di fila 7 nelle ultime 10 attenzione perché i Cups sono una squadra giovane che ha già trovato un'amalgama in questa stagione quindi attenzione perché da questa division che apparentemente sembrava molto meno competitiva delle altre potrebbe scapparci un posto wildcard e i Cups hanno una posizione di vantaggio interessante in terza posizione sono i 16 Reds di Ellie De La Cruz 69 vinte e 66 perse Reds che però ci sono mossi sul mercato per quanto riguarda appunto la sezione dei tagliati e uno dei acquisti importanti dei Reds è Harrison Bader che non sarà magari un nome che ai più dirà molto ma perché evidentemente sempre da un po' di tempo se lo ricorderà prima a St. Louis Cardinals come uno dei grandi prospetti della formazione del Missouri e poi soprattutto a New York Yankees dove era fino a qualche giorno fa letteralmente Bader è poi stato tagliato per prestazioni discontinue e anche per il fatto che Bader oltre a essere un buon giocatore è soprattutto di cristallo e quindi è spesso in infermeria ma uno così in difesa può fare il bello e il cattivo tempo quindi Bader sicuramente darà un buon contributo a questi Reds nella ultima parte di stagione è un acquisto dei waiver che francamente non mi aspettavo però è un bel colpo secondo me per i Reds non guardiamo le statistiche Bader è lì soprattutto dal punto di vista difensivo e non offensivo proseguendo nella classifica invece Pittsburgh è quarta ma è tagliata praticamente fuori nonostante abbia una striscia aperta di tre vittorie di fila 61 vinte e 73 perse per i Pirates ultimi sono i St. Louis Cardinals che li abbiamo visti un po' come i Mets vendere chiunque nella 3 Deadline e appunto sono ultimi anche loro in attesa di rilanciarsi nel 2024 58 vinte e 76 perse chiudiamo con la National League West division comunque molto interessante perché abbiamo tre squadre molto ravvicinate ma con una che evidentemente nel mese di agosto ha ingranato la quarta non la quinta perché la quinta l'ha messa Atlanta i Los Angeles Dodgers tornano a fare i Los Angeles Dodgers finalmente e sono in primissima posizione con 83 vinte e 50 perse 13 partite e mezza di vantaggio sui San Francisco Giants che comunque si sono risollevati e stanno stracorrendo in questo mese estivo di agosto inizio settembre 70-20 e 64 perse per i Giants che però devono guardarsi le spalle dagli Arizona Diamondbacks ecco in ottica playoff White Cups specialmente la lotta tra Giants e di Bax sarà assolutamente interessante perché la prima è una squadra con tradizione abituata ad andare ai playoff la seconda è una squadra giovane che ha già trovato una grande amalgama e ha sorpreso tutti fino a luglio-agosto adesso dovrà evidentemente confermarsi ma una partita di svantaggio rispetto alla wildcard è veramente veramente poco quindi attenzione a San Francisco e Arizona sarà uno dei light motive del mese di settembre sono fuori dai playoff i San Diego Padres che un po' come i New York Mets a est sono la grandissima delusione di questa Lega in toto per soprattutto il roster che hanno vedendo Machado Soto Tattis Junior e compagnia bella Colorado è ultima ed è giusto che fosse lì una vittoria soltanto negli ultimi 10 tre sconfitti di fila un po' come i San Diego Padres solo che Colorado giusto che sia lì San Diego con la squadra che ha non dovrebbe essere in quarta posizione Colorado per la Conaca ha un record di 49 vittorie e 84 sconfitte concludiamo questa Major League Review prima di andare ai playoff con appunto le wildcard abbiamo le statistiche che ci aiutano in tal senso sappiamo che da quest'anno ci sono i playoff allargati quindi anche a partire dal mese di settembre è importantissimo vedere l'eventuale proiezione playoff ricordo ancora una volta ovviamente lo spiegherò anche nel video di ottobre che le prime tre vincitrici di division passano evidentemente come prime nel girone ovviamente le prime due le migliori qualificate ovvero con il record migliore hanno un bye per il turno successivo mentre la peggiore vincitrice di division è qualificata ai playoff sì ma deve affrontare la terza wildcard di conseguenza in American League se finisse così Baltimore e Seattle sarebbero qualificate di fatto alle division series serie al meglio delle cinque partite Minnesota e Texas invece si scontrerebbero appunto seguendo il tabellone tre contro sei e quattro contro cinque Minnesota Texas sarebbe appunto la prima wildcard series mentre la seconda sarebbe un'interessantissima intrigante Tampa Bay Houston Astros con ovviamente il vantaggio del fattore campo alla squadra da una parte vincitrice di division quindi i twins e dall'altra quella meglio classificata come record quindi Tampa Bay quindi serie di playoff assolutamente interessanti quello che a noi invece interessa è la lotta dietro perché in American League i valori sono un pochino sgranati Toronto è ancora in lotta due partite e mezza di distacco da recuperare su Texas fino a Boston secondo me ce la si può lottare perché Boston comunque è una squadra che può evidentemente ingranare una marcia in più a settembre visto che è più quadrata rispetto alle altre da New York anche sin giù sono tutte praticamente after the music in American League abbiamo visto in National League invece finisse così Philadelphia e Chicago Cubs sarebbero evidentemente wildcard insieme ai San Francisco Giants le vincitrice di division invece sarebbero gli Atlanta Braves i Los Angeles Dodgers che avrebbero il bye e i Milwaukee Brewers i Brewers però affronterebbero nel suo scontro 3 contro 6 i San Francisco Giants a Milwaukee mentre sarebbe un bello scontro anche tra due squadre storiche fino ad Elfay Filles Chicago Cubs la lotta invece qui è estesa in realtà a tre squadre oltre ovviamente quelle della wildcard tradizionale Arizona Sessennati e Miami sono tutte in lotta evidentemente per un posto wildcard da San Diego in giù io le tenderei a escludere quindi attenzione a queste squadre abbiamo visto chi è in lotta chi potrebbe essere già qualificato insomma settembre come al solito può essere un mese importantissimo per Milwaukee per Chicago per Arizona Sessennati Miami National League invece per quanto riguarda l'American League per Toronto e Boston oltre ovviamente a Tampa Bay e Baltimore per vedere chi sarà in prima posizione nella division oltre ovviamente a Seattle Houston e Texas questa dunque la recapitulazione ufficiale del mese di agosto appena concluso è l'ultimo appuntamento evidentemente per quanto riguarda le recap tradizionali ricordo ancora una volta inizio ottobre avremo la diretta Instagram sulla pagina di MLB Italia per parlare dei playoff e poi da lì in poi sul mio canale un video ogni fine turno per arrivare ancora una volta alle World Series per vedere chi sarà il campione 2023 il saluto da parte di Meteotorgaard ci vediamo al prossimo video